a continuare un'altra pitti piccole è chiaro che il presidente deve essere tettone guarda questa aveva un problema ma chi sta qua che ha dei gigli come collana cosa sta succedendo sempre da centro stiamo per essere attaccati dagli alieni è una cosa seria oddio troppo tardi eh eh si ecco gli alieni che brutto salve guarda che bel mantello bugato che ha sì celebriamo le tette del mio personaggio ah no quella no ha rapito Kinsey e ha preso la tipa per una cavalcata eh ma noi dobbiamo andare a riprendersela ma sei là per terra e dove è dobbiamo andare allo studio vale cos'ha? devi sparare agli alieni ma non ho armi io si ciao non ce l'ha non ce l'hai l'arma? no però sono entrato secondo me me ne procuro qualcuno qua guarda che sto spaccando la testa a sto tipo oh not bad qua si ragiona yeah posso prendere anche qua? sì prendi il mitra lancio razzi ma io voglio cambiare come faccio a cambiare l'arma? ah cos'è così ok ci siamo? ci sei? hai preso tutto? io vado di fucile a pompa perché il mio personaggio è così io vado al fucile automatico d'assalto andiamo ma ho già finito i colpi guarda che belle statue via 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 ma ma fan bro ma stanno prendendo tutti qua non è possibile ma guarda quello si lancia ma che scema ma sarà mica possibile togliete dalle ah io sono morto è possibile sì andiamoci sui auti perché ci hanno sparato vabbè ma erano solo tipo 50 vedi io non sono bravo con ste cose ah ma sei morto anche tu ma va il concetto è che sei morto tu sono morto anch'io che è un cop ah quindi basta che ne muoia uno come ci si abbassa qua ah con contro bisogna tenere contro ho un'idea per pulire il corridoio ah bravo buona idea anche io vado di quello no tenilo perché perché magari se c'è il boss lo utilizziamo uno per ciascuno ok ce l'abbiamo quasi fatta sì mamma oh stai ma io mamma ok no 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 io mamma sì oddio non voglio morire cosa sta succedendo posso andare anch'io posso andare anch'io nel raggio rosso cosa succede no se n'è andato cerca di fare qualcosa cavolo sto uccidendo mille persone ma guarda che ne ho uccisi già sei io di più io ho fatto una strage del corridoio vabbè ma tu sei più bravo con ste cose c'è il fuoco senti che bruttura no sei bastato prima tu e quindi fa la cazzina a te ma scusa mi è arrivato un estremonale del genere se non si era accorto orsa pua tigro oddio hai visto sì ma adesso quello lo usi solo tu però o no ah no ci sono anch'io ah questo è per la statua della libertà che c***o lo zio Sam non mi ricordo tanto sei Space Invaders a me ricorda soprattutto Duke Nukem Forever cioè Forever sì insomma sì Forever ah ma insomma guarda il tizio non serve a niente cioè il tizio alza le mani ogni tanto eh le ho distrutti sti alieni anch'io ma che sta l'avete fatto saltare che cosa ah affonda la corazzata sì ci abbiamo fatta ma questa ci cade addosso però eh togliti di la porca miseria togliti guarda che sta picchiando proprio contro di te oh no che mama oh Guarda come lo picchi, ah Marco, guarda come Ma che, sei un violento No, Kaiser, dove hai dato? Oddio Guarda come vai Per fortuna sta picchiandote, lol Annoiarmi a morte Vediamo Che è successo? Completata Completiamo qui anche un altro video E ci vediamo nel prossimo episodio, penso Sì, ciao a tutti ragazzi Grazie